Sì, sono d'accordo sul fatto che comunque siamo stati bravi a sbloccarla e poi a ripartire dopo aver subito il gol del pareggio. Diciamo sì, le due autoreti però la seconda autorete è stata dettata soprattutto da una nostra giocata perché è nata, se ben ricordo, da una combinazione sulla fascia tra Luca Ferraro e Alessandro Bernardi e poi il cross è stato... Sì, nel rientro hanno colpito... Secondo tempo poi, dopo aver trovato il gol del 5-1, la partita poi si è incavata verso... Se non sbaglio, è una questione che comunque si affronta già da tempo, però non sta a noi decidere... Ma io chiedo un parere... Sì, sì, ho capito benissimo, però c'è la Lega, c'è il Comitato regionale che comunque ha pieni poteri di prendere queste decisioni che non spettano sicuramente a noi, purtroppo. In alcuni casi magari sarebbe più opportuno evitare le lunghe trasferte, però è questa la regola. Come ben sai, come ti dico sempre, sono insidiosa. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita anche perché non abbiamo quella... Quella esperienza giusta che ci fa pensare più in là. Partita dopo partita e vai! Grazie. Grazie.